signori miei questa è una versione di PES 6 che l'ho trovata per caso quasi ispinto dalla curiosità per vedere se c'era e c'era l'ho trovata e oggi non solo vi mostro come si gioca naturalmente il gioco lo conoscete già quali squadre ci sono ma anche come si installa ragazzi benvenuti a PES 6 Capitano Tsubasa beh fondamentale naturalmente Capitano Tsubasa vedere vedere cos'è e soprattutto quali squadre ci sono io direi di andare a fare un match direttamente andare a fare un match ma restate qui con me perché poi vi do il tutorial intanto guardate nel primo commento al video fondamentale leggete le mie parole il primo commento al video ai tre link in descrizione i tre link per scaricare PES 6 Capitano Tsubasa altro aspetto fondamentale ascoltatemi bene ascoltatemi bene avere un computer gaming non è per console non si può installare per ps5 xbox è solo ed esclusivamente per pc ma non un pc qualunque ci vuole un pc gaming altrimenti come vi spiegherò poi successivamente o ne dovete abbassare la risoluzione o ne dovete abbassare la qualità per cercare di fare in modo di non rallentare il gioco ma soprattutto per cercare di non far crashare il vostro pc perché troppo spesso questi giochi mettono sotto pressione il pc è un gioco che pesa 2 gigabyte voi direte non tanto ma per le qualità grafiche che ha lo mette sotto pressione se avete un pc gaming bene se non avete un pc gaming mi dispiace lasciate perdere o ne abbassate la risoluzione ma rischiate di far scaldare tantissimo il vostro processore e insomma alla fine non ne vale la pena o meglio ne varrebbe la pena però insomma non tutti purtroppo hanno possono permetterci un pc gaming se invece ce l'avete allora siete nel posto giusto fondamentale che comunque se vi diverte vedere questi contenuti sicuramente li porterò li porto in live su tik tok il mio canale sempre lo stesso alexcarson76 non potete sbagliarvi quindi seguitemi anche su tik tok allora andiamo un po a vedere perché qui veramente si sono ingegnati alla grande qui abbiamo tutto il campionato under 20 perché naturalmente io su base sono arrivato al campionato under 20 ho conosciuto gente che sta leggendo tuttora i manga naturalmente c'è anche spagna brasilia argentina ci sono una serie di altre squadre che non ho idea di cosa siano però andremo a scoprire gli under 16 addirittura abbiamo con un bel giappone anzi no io farei l'under 16 la nigeria stati uniti svezia non ho idea e poi si inizia questi sono gli under 12 naturalmente tutti i nomi sono giapponesi i nomi sono giapponesi non sono quindi io stesso non li conosco però la hot dog me la ricordo bene queste non me le ricordo questa è la mappet questa è la mambo la nagano non so chi siano la naniwa nemmeno la shimada forse ma fondamentalmente è la prima serie seconda serie qui cambia tutto c'è l'airado di clifford yuma che qui si chiama ito in realtà scusate la ma la mappet 2 ma c'è la toscula anche di mark landers però signori miei poi sono andati a giocare anche in altre squadre quindi mark landers finisce alla juventus che viene chiamata piemonte se non sbaglio nella nella serie altre sono tutte squadre da scoprire tutto un mondo nuovo qui sicuramente la j league beh sicuramente la j league secondo me vale penso abbiano messa apposta giustamente e poi ci sono una serie di altre squadre ma tutte veramente anzi io direi di andarle a scoprire un attimo edit edit player eccolo qua e possiamo andare a vedere insomma qui la furano vedete i fratelli chasibana che sarebbero i fratelli derrick la mambo di julian ross la mappet eccolo lì kojiro yuga vale a dire mark landers zubasa o zora qui ci hanno messo un h in più ma lasciamo perdere lasciamo perdere non è un problema non è un problema qui siamo già sul campionato under 15 ed ecco che kojiro yuga finisce alla toscool abbiamo ancora una mappet abbiamo una serie di altri giocatori che sinceramente io non ricordo perché non conosco i nomi giapponesi poi la super striker league con una furano eccolo qui qui c'è la juventus il milan con un nome con un simbolo strano l'inter insomma ci sono tutti i giocatori naturalmente inventati penso che la j league sia l'unica con i giocatori reali però attenzione per esempio qui teppei kisugi penso che sia baker se non sbaglio finisce al sereso osaka quindi non lo so qui c'è da ragionarci sopra poi ci sono tante squadre tutti con giocatori inventati naturalmente e zubasa o zora finisce al barcellona quindi siamo già in alto con xavi iniesta rivaldo li vedete lì quindi questa è la situazione adesso però io direi di andare a fare una partita allora fondamentalmente siamo meglio iniziare a farvi vedere il gioco ma naturalmente faremo ecco facciamo il primo tempo perché poi andiamo sul tutorial su come installarlo io direi di andare direttamente no io voglio gli under 16 ecco andiamo su questo giappone naturalmente dove agli under 16 eccolo qua di americas eccolo qua germania perfetto giappone germania mi sembra doveroso ed eccoli qua allora c'è wakajimazu vale a dire edward in porta e naturalmente in panchina c'è penso ci sia wakabayashi sì che benji shunnitta non riesco a capire se è patrick everett o quell'altro sandy winter uno dei due sarà bruce harper makoto soda che è peters i fratelli tachibana però uno davanti alla difesa non me lo ricordavo quindi io lo voglio sulla fascia e davanti alla difesa io voglio il numero 12 quello a no ecco lui sì no ma davanti alla difesa mettiamo julian ross se c'è no non c'è julian ross era in panca se non sbaglio allora io direi di mettere callagan che è suyama e vediamo chi c'è in difesa shingo takashuji e qui dovete aiutarmi voi perché hanno takeshi sawada e danny mellow voglio danny mellow davanti alla difesa davanti alla difesa voglio danny mellow eccolo qui perfetto i gemelli derrick sulle fasce ho lì dietro mark landers e patrick everett dall'altra parte vedete carlheim schneider ho detto tutto andiamo così andiamo direttamente così il menu è spettacolare secondo me c'è anche un bella bella musichetta di sottofondo non so se si sente anzi no non si sente perché avevo l'audio disinserito ecco qui perfetto adesso dovreste sentire la musichetta eccoli qua i giocatori complimenti a chi li ha fatti con gli occhi manga sono perfetti praticamente ok ci siamo perfetto si parte ogni tanto ci comparirà la musichetta dai bruce kazoo tachibana col numero 3 e qui veramente comunque è come giocare a p6 però versione ho lì e benji e non è malvagio il discorso qui ci si potrebbe fare una costruire una bella master league però c'è da ricordarsi i nomi inglesi perché tutti siamo abituati con i nomi inglesi eccolo qui il nostro marca brutto controllo di mark landers la germania spinge in questo primo tempo faremo solo un tempo aia grande holly grande holly eccolo qua uno dei gemelli derrick kazuo tachibana eccolo di miller in porta è un bestione praticamente per il fratello masao tachibana si sente la musichetta sotto uh ci abbiamo provato con landers notare il replay a questo volevo mostrarvi grandissimo e diter muller para batte danny mello il calcio d'angolo uh chi ci ha provato mark landers vedete naturalmente l'aspetto del campo è un aspetto veramente cartunesco come giusto che sia naturalmente non deve esserci niente di reale il gioco però è reale quindi non si possono riprodurre super tiri c'è il gioco tsubasa rise of new champions che non mi ha divertito ecco perché mi ha fatto tornare indietro nel tempo però fondamentalmente la dinamica è sempre quella il super tiro e tutto il resto qui invece abbiamo praticamente tutta la saga di holly e benji nooo e devo dire che per tanti è come tornare bambini perché naturalmente tanti si sono avvicinati al mondo del calcio anche grazie a holly e benji convinti che il campo fosse a forma di collina e invece non era così però insomma era una rappresentazione di un calcio particolare con il giappone che alla fine vinceva contro tutti e tutto ma va bene così ed eccolo qui naturalmente i modelli di giocatori sono da accettare per come sono attenzione perché lì ed warner in pietrito di fronte a christian max il nostro ed warner doveva volare da un palo all'altro invece così non è clifford you ma quello che tirava da casa sua praticamente i fratelli derrick sulle fasce beh volendo si potrebbe fare un tridente con i fratelli derrick e mark landers come punta centrale e in un 4 2 1 3 con subasa o zora a fare da trequartista si potrebbe tentare oh ecco qua grande il salvataggio aia oh perfetto il fatto è che questo campo cioè tuttora magari su certi giochi ps5 si vede quello è il punto eccolo qui il nostro subasa sì ma che tiraccio di sinistro ah niente aia la germania viene giù eh ci hanno provato niente da fare sta finendo il primo tempo questo può regalare ore di divertimento sano ma soprattutto creare una master league con questo sarebbe fenomenale ma cotto soda cross in mezzo per mark niente niente contrastati muller praticamente un bestione quello non lo non gli segnerai mai praticamente anche nelle proporzioni i giocatori sono piazzati bene un minuto di recupero intanto dall'arbitro bene finisce il primo tempo ci fiondiamo sul tutorial installazione eccoci qui mentre scorre dietro un'immagine appunto di pass 6 per quanto riguarda appunto capitan subasa ovvero holly e benji aprite intanto i tre link e andate naturalmente scaricate in download tutti e tre i link due pesano rispettivamente un giga e 46 e 891 mentre questo è solo il file di esecuzione lo vedete il file executable file exe fondamentale scaricarli tutti e tre lasciateli nella cartella download dopodiché una volta scaricati aprite il primo file in questo caso aprite appunto pes 6 il primo quello da un mega e 93 una volta scaricati perchè vedete pes 6 ctr rr 1 pes 6 ctr r 2 in questo caso dovete aprire pes 6 ctr r fondamentale questo naturalmente aprire appunto questo file dopodiché farà tutto da solo ve lo metterà nella nella cartella programmi per 86 naturalmente create sia l'icona sul menu start che l'icona sul desktop dopodiché partirà lui direttamente un ultimo consiglio che vi do un ultimo consiglio che vi do riguardo appunto ai settings perchè i tasti se avete un joypad come quello che ho io simile xbox eccolo qui simile xbox che è per pc naturalmente non sono settati giusti quindi ora vi faccio vedere come settare correttamente il appunto i i tasti naturalmente del joypad è fondamentale farlo eccoci qui siamo sulla cartella programmi per 86 dove in teoria abbiamo installato il gioco è fondamentale fondamentale vedete io addirittura ne ho tre vedete ho tre versioni diverse perchè sono tre giochi diversi una cosa che mi chiedono io ho già per sei installato posso usare questo no dovete usare i miei link i link che vi ho dato nel primo commento perchè è una versione preconfezionata completamente diversa allora andiamo qui vedete eccolo qua fondamentale fare questo passaggio e adesso catturiamo una nuova finestra adesso andiamo a cercarla eccolo qui perfetto ok ce l'abbiamo e ve la metto proprio in sovraimpressione fondamentale questa finestra qui adesso si aprirà questa dei settings vi dicevo prima pc gaming perché perché se avete un pc normale o ne dovrete abbassare la risoluzione ma vi assicuro che 800 per 600 praticamente è la risoluzione che si aveva nel tubo catodico e naturalmente a finestra e naturalmente ne dovrete abbassare anche la qualità quindi verrà fuori una puntini puntini poi fondamentale cambiare i comandi perchè naturalmente esattamente come sottoscritto userete un joypad quasi sempre sembra quella la copia dell'exbox e qui man mano che schiacciate con il mouse settate i comandi schiacciando il nuovo tasto in questione in questo caso io ce l'ho già preimpostato me lo sono già preimpostato ma vedrete che sono diversi quindi dovrete rifarli tutti questo è fondamentale passaggio fondamentale per appunto far partire il gioco senza questo discorso qui il gioco non parte o meglio il gioco parte ma vedrete tutti i comandi sbagliati e dite ma porca miseria io l'ho scaricato e tutti i comandi alla fine dovete fare questo passaggio poi potete farlo anche partire da quella cartella lì pass 6 ma sicuramente vi creerà quando vi da la domanda vuoi creare l'icona nel desktop dite sì oppure ve la creerà sul menu start questo è il mio tutorial e naturalmente io spero che vi divertirete tantissimo io ho già avuto modo di divertirmi online con le mie dirette tiktok e continuerò a farle perchè vedo che per 6 su tiktok è ricercatissimo quindi continuerete a vedermi su tiktok live su youtube difficilmente preconfezioneremo qualche video per youtube grazie ancora a tutti di avermi seguito buon divertimento spero di essere stato il più esaustivo possibile naturalmente sono qui aperto ad ogni domanda ma mi raccomando fatemi domande pertinenti del tipo non ditemi ma come si installa e tutto il resto seguite bene tutto il video grazie grazie ancora a tutti un abbraccio e ciao a tutti da Alex Carson grazie a tutti